Mister Antonio Valentini, domenica arriva Sora, un'altra partita importante sul cammino della Tonno Calipo Calabria Vibo Valencia, riduce dalla vittoria di Reggio Emilia. Sì, domenica sarà sicuramente una partita molto difficile perché arriva a Vibo una squadra che sta facendo benissimo e che secondo me è stata costruita molto bene. È una squadra che ha dei buoni equilibri ma che principalmente ha una serie di giocatori che hanno una buonissima esperienza, lunghissima esperienza, che conoscono molto bene il campionato di Serie 2. Fabroni, Fiore, Paris e poi un opposto come Hirsch che sta facendo bene, che è un ragazzo molto giovane, che sta facendo bene e ha fatto molto bene in questa prima parte di campionato. A proposito proprio di Hirsch, della diagonale palleggiatore opposto, è tornato Capitan Fabroni, una coppia che è stata forse decisiva nel successo contro Matera, per l'opposto tedesco 31 punti. Diciamo che Sora si incardina su loro due e poi su altri giocatori tu parlavi di Fiore, ma anche Santucci il libero, Salghiado al centro è un altro elemento importante. Io penso sì, l'opposto, Hirsch sta facendo bene, ha fatto delle partite, quella di domenica con Matera è stata un'ottima partita, ha fatto 31 punti. Però questa è una squadra che non ha solamente un opposto che fa la differenza, è una squadra che ha giocatori che giocano bene, nel senso che conoscono bene il campionato, che quindi sbagliano in alcune situazioni poco. Sono giocatori di esperienza, Hirsch è giovane, quindi magari in alcuni momenti è capace che fa degli errori, magari un po' così. Mentre Fiore, che è un giocatore che ha fatto tantissimi campionati, è un giocatore di ottime esperienze in a due. Fiore, ma anche lo stesso Paris, Santucci il libero, sono giocatori che sono secondo me molto buoni, che costruiscono una squadra equilibrata. E guardando in casa nostra, da Reggio Emilia, qual è l'aspetto più positivo che ti porti al di là ovviamente del risultato? C'è un fondamentale che vedi con il passare dei giorni che sta crescendo? Ma sì, sicuramente stiamo crescendo, nel senso che la partita di Reggio Emilia è stata una partita dove abbiamo fatto bene alcune cose, dove stiamo crescendo e specialmente stiamo più continui durante le partite, quindi sbagliamo di meno. Questo è quello che è il nostro obiettivo. Speriamo anche domenica con Sora di riuscire a continuare a giocare sempre meglio a pallavolo.